Per noi non è un lavoro, è la nostra vita e la nostra passione. Io sono Paola Nada, insieme a mio marito Sergio, mia mamma e mio figlio Alessandro portiamo avanti da 25 anni la nostra azienda Bongustaio Piemonte. La ricetta della salsa tonnella ci è stata tramandata dalle mie bisnonne e nonne e dalla mia mamma. Noi la realizziamo cercando di mantenere gli ingredienti classici del tonno sott'olio, i filetti d'acciuga, le uova sode passate a setaccio, succo di limone e olio extravergine d'oliva. Noi cerchiamo di mantenere proprio sia per questo prodotto che per tutti gli altri prodotti della tradizione piemontese la ricetta originale, proprio per dare la possibilità di ritrovare il gusto del com'è fatto in casa e com'è appena fatto. Grazie a tutti.